Stadio Adriatico Giovanni Cornacchia, la prima occasione, insomma il primo tiro in porta anche se non c'entra lo specchio, di Tupta sul calcio di punizione da distanza ragguardevole. Poi c'è Bulevardi che scippa il pallone ad Aloy, sbaglia tutto artistico perché era liberissimo il suo compagno di reparto Di Stefano, dunque grande opportunità non sfruttata dal Gubbio. Gubbio che ce li prova ancora con Gabriele Artistico che comunque è stato tra i migliori, il suo destro attento il portiere Pescara Sommariva, siamo alla 24esimo, rivediamo la conclusione, si è girato e ha concluso in diagonale, bravo il portiere Biancazzurra. Poi Crecco che secondo me ha giocato una buonissima partita, sfonda a sinistra e poi vediamo che Vergani con una gran giocata se ne va in campo aperto a Francofonte, l'arbitro il signor De Angeli di Milano estrae il giallo, rischia tantissimo qui. Il centrocampista, il metodista della formazione Ugubina, il colore del cartellino è il giallo e i Biancazzurri vanno a chiedere il rosso, si rimane in parità numerica dunque con Vergani autore di un ottimo spunto al pari di Crecco sulla fascia. Siamo naturalmente al primo tempo, il parziale di 0-0, c'è Vergani che soffia il pallone a bontà, o meglio un errore di bontà, poi Vergani fa tutto bene ma calcia proprio sul corpo di Morelli. Buona opportunità, rilancio ancora nel finale di tempo, Crecco, palla a ritroso, intelligente, Cicca Vergani, la conclusione di Delle Monache con la palla che termina distante dal palo destro della porta difesa dal numero 1 Meneghetti. Poi siamo nel secondo tempo, qui c'è Tupta che ruba palla a un difensore avversario, il colpo di tacco molto bello per Crecco, il suo rasoterra, il sinistro radente bloccato dal portiere Meneghetti. Rischia qui il Pescara sugli sviluppi di un calcio di punizione battuto da Franco Fonte, poi altro calcio di punizione sul versetto opposto di Alloi, colpo di testa d'ingrosso e brivido per la difesa eugubina. Quindi siamo al 76esimo quando entra De Sogus che fa la differenza, lo scambio con Tupta, il suo invito è la traversa clamorosa del numero 7 Colai, anche egli è entrato in corso d'opera, forse una deviazione impercettibile ma decisiva anche del portiere del Gubbio Meneghetti. Traversa e poi il colpo di testa allontanare il pallone, la minaccia di Bontà sugli sviluppi del corner c'è la rispinta della difesa Umbra, la conclusione di Saccani e parte il contropiede di Di Stefano che allarga subito per Vasquez entrato da un minuto e mezzo, sterzata su Crescenzi e interno sinistro. Di grande precisione, nulla da fare per il portiere del Pescara Sommariva, siamo al minuto 78 nel corso di questa partita, il gol dell'italo-argentino Federico Vasquez, classe 93, è stato allenato Virtus Francavilla dal tecnico del Pescara Colombo, qui un'altra azione degna di questo nome, uno spunto pazzesco di De Sogus, palla in profondità per Tupta che si prepara molto bene ma colpisce malissimo l'ultima opportunità del Pescara, 4 minuti di recupero, finisce 1-0 per il Gubbio, vittoria storica, non era mai riuscito al Gubbio di battere il Pescara nei precedenti sette confronti, dunque il Pescara saluta la Coppa Italia